E qui siamo proprio al paese di Giazza. Ecco, vedete il centro storico? Ci sono anche dei cani che abbaiano. Bella anche questa fontana e tutto il paesaggio che c'è intorno. Ci sono dei bellissimi orti. Dei bellissimi fiori. Qui siamo davanti al Monumento dei Caduti. E siamo proprio nella chiesa, dove c'è la chiesa. Ecco la porta laterale della chiesa. Ui, suono delle campane. Questi verdissimi alberelli. Qui c'è una pizzeria cimbra. Ecco le ultime scene, queste montagne. Da questa piazza, questa piccola piazza che c'è davanti alla chiesa. C'è anche una statua, un piccolo monumento. E qui vediamo la facciata appunto della chiesa. E concludiamo qui il nostro servizio. Un saluto a tutti voi da questo luogo, da Giazza, in Alta Valdillasi. Buona giornata a tutti.